Mio nonno per far soldi mi ha insegnato un solo sistema Come lo dico? Ti sembra il momento di perdere tempo con questa roba? Dai, suona il gong Mi dispiace gente, mi dispiace 25 dollari, dico 25 dollari a chi saprà mettere knock out Il grande campione del Mississippi, Tommy Glancing Blow In un regolare incontro di box, il nuovo sport oggi popolare in Inghilterra Avanti ragazzi, non posso credere che manchiate di fegato E allora? La mia offerta non vi soddisfa? Beh, raddoppio la posta 50 dollari uno sull'altro, 50 dollari pagabili a vista Io non faccio chiacchiere, sto parlando di 50 bigliettoni Vedere? Prego signore, prego Il signore non si fida e fa bene È suo diritto controllare Noi invece lavoriamo sulla fiducia, mio caro signore Perché la fiducia è l'anima del commercio Così non vogliamo vedere i suoi 5 dollari Se non alla fine dell'incontro Nel caso che lei perdesse Si faccia avanti, prego Non io Lui Ehi, dici, che volete Attenzione gente, un po' di attenzione per favore Signore e signori, presento a voi il grande campione del Missouri Hatch Bass In un incontro senza limite di tempo Di autentica box all'inglese Coraggio, siamo nelle tue mani Anche, coraggio Pensa solo ai 50 dollari Si pende tutto da te Oh, così va bene, bravo Attenzione Porca, porca Perca 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 No, no, no! Ah, non lo vedi che è già cotto Ah, non lo vedi, non lo vedi Non lo vedi, non lo vedi